Web e social per presentare l'immagine che caratterizzerà la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 16 al 25 luglio. Terra chiude la trilogia degli elementi, avviata due anni fa con acqua e proseguita l'anno scorso con aria. L'immagine scelta per Giffoni 50 è stata realizzata dall'artista salernitana Federica D'Ambrosio. Si tratta di una rivisitazione della scuola di Atene di Raffaello Sanzio. Nell'immagine campeggia Beatrice, portatrice della terra che intende rimettere al centro dei pensieri e dei saggi il mondo, la natura, il corso degli eventi e il rispetto dell'ambiente. Una nuova sfida, dichiarato il fondatore e direttore di Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi. Un luogo del pensiero, di processi di cammino filosofico diverso, di ricostruire molti diversi, di pensare alle cose utili e l'emersione ancora di più dei grandi valori che hanno segnato la storia del nostro festival. L'emergenza coronavirus intanto non blocca il Giffoni Opportunity, che trova nuovi modi per essere al fianco dei suoi ragazzi. Tante le attività e le iniziative per coinvolgere migliaia di ragazzi con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei giovani e delle loro famiglie, offrendogli uno spazio per raccontare e raccontarsi. Come ad esempio Giffoni a un metro da te, un talk proposto su tutti i canali social non ufficiali. All'incontro virtuale, ospiti del direttore Gubitosi via Skype, ci sono i Giffoners che raccontano come stanno trascorrendo questo periodo, ma intervengono anche tanti ospiti famosi. Altre iniziative Giffoni Stay Human, una chiamata alle arti per raccogliere storie che poi verranno introdotte dagli autori stessi e messe in scena da attori durante la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival.